Ciao, sono Elisabetta di Casabase, ho appena ritirato una proposta di acquisto per un immobile che sto vendendo e colgo l'occasione per raccontarvela. Allora, che cos'è una proposta di acquisto? Quando voi state per acquistare un appartamento tramite un'agenzia immobiliare, l'agenzia immobiliare vi fa compilare una proposta di acquisto. La proposta di acquisto è sostanzialmente un precontratto, dico pre perché per diventare contratto deve esserci anche la firma del proprietario. Inizialmente è un precontratto perché la compilate soltanto voi e siete voi che iniziate a stabilire quelle che sono un pochettino le vostre regole e le vostre esigenze per comprare quell'appartamento. Intanto vi voglio dire che i moduli e i formulari devono essere regolari e depositati presso le camere di commercio della città di dove è ubicato l'appartamento e quindi la sede dell'agenzia. Sono moduli tendenzialmente in duplice o triplice copia e una volta compilato una di queste copie ve la devono dare. Che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che fondamentalmente gli argomenti che vengono trattati nella proposta di acquisto sono prezzo, la durata e la validità della proposta perché ha un tempo, un inizio ed una fine, i tempi da che io compilo la proposta a che io vado all'atto definitivo con il trasferimento della proprietà, le modalità di pagamento, la descrizione degli immobili, comprense di tutte quelle caratteristiche che sono le specifiche di ogni singolo appartamento e la mediazione di agenzia. Allora la prima parte sono i vostri dati personali e i dati dei proprietari, cioè voi andate a indicare quelli che sono vostro nome, cognome, residenza, codice fiscale e andate a scrivere quelli che sono appunto anche i nomi dei proprietari. La descrizione degli immobili, quindi l'indirizzo, gli identificativi catastali e la descrizione discorsiva. Poi abbiamo le informazioni sulla conformità degli immobili, ovvero le planimetrie catastali, se sono coincidenti rispetto allo stato di fatto in cui vedete l'appartamento, quella è una cosa semplicissima da verificare perché voi la casa l'avete vista, poi guardate la planimetria catastale e cercate di capire se sono identiche. Poi abbiamo la parte riguardante gli impianti, la parte riguardante le normative urbanistiche ed edilizie, per esempio se ho un bagno, se c'è l'antibagno, se è indicato, se non è indicato, se c'è, se non c'è, se abbiamo degli abusi ed edilizi all'interno del nostro appartamento oppure se non ci sono, se è tutto a norma, la descrizione degli impianti, se ci sono delle ipoteche o delle trascrizioni pregiudizievoli, nulla di spaventoso, semplicemente quando uno va a fare un mutuo la banca iscrive un'ipoteca volontaria sull'immobile. Quindi se voi state comprando un appartamento il cui proprietario a sua volta per acquistarlo aveva richiesto un mutuo, lì sopra ci sarà ancora iscritta un'ipoteca che potrà essere cancellata prima o contestualmente all'atto notarile. Nulla di grave. È praticamente la norma. Poi l'attestato di prestazione energetica, se c'è, deve essere indicata la classificazione. Potrebbe anche essere che un appartamento non è ancora stato fatto il certificato energetico e deve essere obbligatoriamente fatto prima dell'atto notarile, altrimenti il notaio non fa l'atto. Poi abbiamo i tempi, l'efficacia della proposta, cioè per quanto tempo può rimanere in piedi questa proposta? Ovvero per quanto tempo io sono vincolato alla proposta che ho sottoscritto? Anche perché ricordate che voi facendo una proposta lasciate un assegno di caparra intestato non trasferibile al proprietario dell'immobile trattenuto a mani dell'agenzia fino al momento dell'accettazione. Quando è che io posso dire di aver comprato casa e che la mia proposta è stata accettata? Quando voi che avete fatto la proposta venite a conoscenza dell'accettazione da parte del proprietario con una comunicazione ufficiale o via mail o con una raccomandata entro i termini della proposta, cioè le vostre proposte non è che sono valide in eterno. Se entro il tempo di proposta voi non avete risposta, voi siete liberi anche se non vi siete ritirati l'assegno di caparra. Poi viene stabilito quando andate a fare l'atto definitivo di compravendita, cioè a partire dal giorno in cui fate la proposta all'ultima data che è quello in cui pagate tutto l'appartamento e vi viene trasferita la proprietà, viene trasferito il possesso fondamentalmente, quando è questo termine ultimo? Un mese, due mesi, sei mesi, nove mesi? In mezzo tendenzialmente si stabilisce quando fare il compromesso. Il compromesso non è altro che un perfezionamento, diciamo, della proposta di acquisto. Cerco di spiegarlo in breve. La proposta di acquisto, se viene accettata in tutte le sue parti dal proprietario, senza fare nessuna modifica, né sui tempi, né sui modi e né sulle cifre, con tutte le firme, sostanzialmente diventa un contratto al pari livello di un compromesso. Normalmente si fa il compromesso perché di solito la proposta di acquisto, una volta poi portata al proprietario, può avere delle modifiche nei tempi, nelle modalità di pagamento e nella cifra. Allora, il compromesso serve per avere un accordo tra le parti perfezionato rispetto alla proposta di acquisto, dove gli attori del compromesso siete voi che promettete di acquistare e il proprietario che promette di vendervi. È una promessa fondamentalmente. Il compromesso poi verrà o registrato o trascritto. Sono due strade diverse e molto, molto differenti, che andremo ad affrontare magari in un altro momento. Continuiamo sulla nostra proposta. La proposta poi, praticamente, contiene appunto le modalità di pagamento, che sono l'assegno di caparra che voi lasciate al momento della sottoscrizione della proposta. Quando fare il compromesso e che importo dare il compromesso, tendenzialmente si dà intorno al 20-25% dell'importo totale, ma le cifre possono assolutamente variare. Cioè, in questo momento siete voi che proponete, quindi in qualche modo cercate di fare una proposta che è nelle vostre corde, cioè nelle vostre possibilità e in quelle che sono le vostre esigenze. Potete anche decidere di non fare il compromesso e andare direttamente all'atto, per esempio. Lo potete decidere voi. In questa fase della trattativa siete voi che un pochettino decidete come volete che questa trattativa venga portata avanti. Pagamenti successivi, e ve l'ho già detto, riguardano appunto il compromesso. Possono anche essere previsti degli ulteriori pagamenti intermedi. Mi raccomando, dovete indicare per bene se questi pagamenti intermedi sono ulteriori caparre confirmatorie o se sono degli acconti. Allora, anche qui c'è molta, molta differenza nella terminologia. L'acconto è una cosa, la caparra è un'altra cosa. Cioè, nella parola stessa c'è l'aspetto legale di quella somma di denaro. Questo è fondamentale. Piuttosto, fatevelo spiegare bene, è meglio fare due domande di più che una di meno. Importante. Poi abbiamo il compenso di mediazione all'agenzia. Normalmente viene indicato sempre nella proposta. Lo dovete contraffarizzare in quel momento lì. Ci sono usi e consuetudini. Variano a seconda della città e dell'agenzia. Potete chiedere quali sono le loro abitudini. E poi abbiamo una parte dedicata ad eventuali clausole aggiuntive. Io di solito questa parte la utilizzo per, non so, indicare se voglio che, compreso nel prezzo, ci sia la cucina. Oppure se devo indicare che voglio che venga, non lo so, affatto fare, un antibagno perché di fatto non c'è e io ho bisogno di fare un mutuo e quindi ho bisogno che la casa sia regolare per cui vado ad indicare che il proprietario è entro la tal data e mi fa costruire l'antibagno come la casa dovrebbe essere. Nella sostanza questa è la proposta di acquisto. Se il proprietario poi firma questa proposta di acquisto senza portare nessuna modifica, la proposta è già un contratto. Se vi tirate indietro dopo aver sottoscritto la proposta e che viene accettata in tutte le sue parti, perdete la caparra. Se a seguito dell'accettazione è il proprietario che si tira indietro, vi deve restituire il doppio della caparra. Vuol dire, vi deve restituire la vostra somma di denaro più darvi un'altrettanta uguale somma di denaro. Spero di essere stata abbastanza chiara, largamente complicato, lo tratteremo anche in altri video, ma questa intanto è una prima parte. Ciao e buona giornata!